Ciao a tutti, oggi parliamo di cellulite, l'estetismo più diffuso tra tutte le donne e quello che è un po' la croce per tutti noi. La cellulite intanto cerchiamo di chiarire che non è altro che un disturbo, lo possiamo definire, di origine multifattoriale, che interessa essenzialmente principalmente il panicolo adiposo, localizzato principalmente in interno e esterno cosce, glutei, fascia addominale, ma si può trovare anche sulle braccia o anche in altri distretti. L'origine della cellulite è, come dicevamo, multifattoriale, nel senso che ha un'origine infiammatoria, di tipo infiammatorio, dovuta all'alimentazione, al cattivo stile di vita, anche l'assenza di movimento e di sport, al quale si somma anche un problema di origine microcircolatoria, cioè il microcircolo influisce in quanto all'infiammazione del tessuto adiposo si aggiunge quello che è la ritenzione idrica. E poi andiamo a spiegare in che senso. Per curare e migliorare, più che curare, i disturbi legati alla cellulite, sicuramente possiamo agire, ripeto, migliorando il nostro stile di vita, con degli integratori specifici, quindi a uso interno, a base di piante che ci aiutano a rafforzare le pareti, a base anche di antiossidanti che aiutano a togliere e migliorare l'infiammazione. Ma quello di cui voglio parlarvi oggi è l'aiuto, il grande supporto che possiamo dare alla nostra dieta, ai nostri trattamenti a uso interno, dal trattamento di uso topico, quindi applicazione locale, che possono essere fanghi, creme, trattamenti, applicazioni linfodrenanti. In mercato abbiamo diverse gamme e tipologie di prodotti. Dobbiamo stare molto attenti perché la maggior parte possono contenere delle sostanze chimiche che vi influiscono negativamente sugli ormoni, perché possono essere stimolanti sulla tiroide, piuttosto che sulla pressione, sull'ipertensione e tanti altri disturbi che sono da tenere importanti e nelle sotto controllo. E quindi risulta fondamentale affidarsi ad aziende serie, che sono nel settore naturale, cioè da diversi anni, quali per esempio posso tranquillamente consigliarvi la Guam. La Guam è un'azienda che lavora nel settore degli anestetismi legati alla cellulite di cui abbiamo parlato da più di 30 anni e da più di 30 anni si affida a un'equip di ricercatori che formulano per voi i migliori prodotti adatti ad ogni singola esigenza, specifica esigenza. Abbiamo infatti come base dei prodotti Guam le alghe, quindi i fanghi d'alga Guam, sono appunto a base principalmente di alghe, alghe oceaniche. Ogni alga ha delle concentrazioni di micronutrienti specifiche per aiutare la vostra, diciamo, problematica, perché dobbiamo tenere in considerazione che chi soffre ad esempio di tiroide ha difficoltà nella gestione metabolica dello iodio. Quindi la maggior parte dei prodotti utili nel settore del dimagrimento e del miglioramento della cellulite, dell'inestetismo della cellulite, hanno delle alghe, quali il fucus, che contengono parecchio iodio e sono del tutto sconsigliate. Benché questo sia contenuto in molti prodotti, la maggior parte dei prodotti delle linee Guam, l'azienda ha anche pensato a delle formulazioni in grado di essere tollerate, quindi con delle alghe che non contengono questi principi attivi, ma ne contengono altri, quindi agiscono sotto altri aspetti, quindi che possono essere utilizzate anche da chi soffre di disturbi legati alla tiroide, nonché da chi ha problemi relativi ai capillari fragili. Altro problema a tenere in considerazione per chi utilizza questi prodotti. La Guam deve la sua efficacia non soltanto all'utilizzo delle alghe, ma anche alla sinergia fondamentale di oli essenziali. Infatti, oltre all'aiuto dato dall'alga appunto in sé, troviamo tutto un insieme di pool di oli essenziali specifici per migliorare il microcircolo, per rafforzare quindi la parete delle vene e quindi favorire quello che è il ritorno venoso, che è la base, come dicevamo prima, dell'altro problema associato all'infiammazione del pannicolo adiposo, che è la ritenzione idrica, perché una vena che non è abbastanza elastica e non funziona bene ed è debole, crea a livello dell'area infiammata, dove già c'è una difficoltà di ossigenazione, quindi di apportare sangue ai tessuti, crea un'astasi linfatica o venosa che comporta una fuoriuscita di liquidi. Questo problema è efficientemente risolto appunto dai prodotti in questione, che contengono gli essenziali presi dal rusco, piuttosto che l'ippocastano, quindi tutte piante, la vite rossa, tutte piante che aiutano sotto questo aspetto. In più uniamo anche il discorso termogenico, se così si può definire, perché magari è un po' improprio, però aiutiamo con il principio attivo del peperoncino, la capsecina, quindi la caffeina, aiutiamo anche a stimolare il rilascio dell'ipocita, quindi del grasso di deposito di questi distretti. Guam ha pensato innanzitutto storicamente ai fanghi per trattare queste esigenze, e il fango chiaramente è ciò che resta applicato per più tempo, perché almeno quotidianamente, secondo dei cicli ben precisi, dobbiamo tenere l'applicazione in una mezz'ora, tre quarti d'ora, ma per chi non ama molto l'applicazione del fango, chi non ha il tempo, ci sono tutta una serie di prodotti nati poi perfezionati negli anni, quali oltre le creme e i gel, soprattutto parliamo del fango crema, che sono delle creme particolarmente ricche, dove oltre le alghe e gli oli essenziali abbiamo un contenuto di fango bilanciato in modo tale che può essere efficientemente riassorbito senza risciacquo. Quindi un'ottima soluzione per chi va, ma il giorno d'oggi andiamo un po' tutti di fretta. Inoltre, come ultimissime novità, quindi in questi ultimi due anni, l'azienda Guam ha messo appunto un sistema innovativo, chiamato appunto FIR, che adesso è alla base di tutte le nuove linee sia di fanchi sia di creme che di fangocrema della Guam, come possiamo anche vedere, che significa sistema a infrarossi, quindi incorporando nelle formulazioni della tormalina riusciamo praticamente attraverso il sistema a infrarossi a veicolare più in profondità i principi attivi che quindi riusciranno a raggiungere più efficientemente i distretti interessati. Per completare insomma quello che è il discorso quindi relativo a queste linee, non possiamo trascurare l'ultimissima novità, sempre con base sistema FIR, che sono i pantaloncini, leggings, magliette fatte in tessuto appunto contenente microincapsulato, sia le alghe, sia appunto i principi attivi, ma soprattutto la tormalina. Quindi indossando per almeno un 7-8 ore al giorno questi capi di abbigliamento, che poi sono comodi anche alla moda, ecco, per tutti i giorni, facciamo, diciamo, lavoriamo sia su un discorso estetico che su un discorso anche circolatorio, quindi di salute, perché sono quindi graduati, tessuti graduati, quindi che vi aiutano oltre a risolvere il discorso della cellulite, anche, ripeto, sul microcircolo, quindi sulla circolazione. Queste insomma sono un po' le basi, ma se avete altri dubbi, altre curiosità, vi aspetto sulla pagina Lamerissa Erboristeria, con tante domande, noi saremo sempre a disposizione per tutte le vostre richieste, le vostre esigenze. Per oggi quindi è tutto, vi aspetto al prossimo video, una buona giornata.